Basterà una vittoria, basterà concludere il match con un gol in più degli avversari. Facile a dirsi, difficile ma non impossibile a farsi. Si mettono da parte tutte le critiche, le negatività e gli esasperati tatticismi. Remare assieme verso il sogno chiamato Serie A. La truppa, capitanata da Morano Longo, può ancora arrivare nel porto sicuro della massima serie, ma per farlo dipenderà da tutti, nessuno escluso. Sabato sera scenderà in campo l'intera provincia, non solamente 11 calciatori. E a tal proposito è proprio la Curva Nord a proporsi come propulsori in un manifesto pubblicato sui social. Un gol e assegnarlo dobbiamo essere noi, si legge, sottolineando come allo stadio ci sarà una coreografia in cui ogni spettatore presente in curva sarà protagonista. Sabato sera si avrà la possibilità concreta di scrollarsi 13 mesi di sfortune e magari tornare a piangere di gioia, come tre anni fa. Due porte davanti, una per il paradiso ed una per il purgatorio. spetta al popolo sciociaro dare la spinta alla squadra per aprire quella giusta, con incisa la lettera A.